Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Come sempre, prima di tuffarmi nell'argomento di oggi, voglio ringraziarti davvero di cuore per il tuo tempo, per la tua presenza, per il tuo supporto, insomma, un grazie di cuore per tutto questo. Prima di tuffarmi ancora nell'argomento di oggi, voglio ricordarti di iscriverti al canale YouTube, se ancora non sei iscritto, per avere ogni martedì aggiornamenti per quanto riguarda il mondo Amazon, valore e così via, come hai visto in tutti i video precedenti, ed inoltre lasciare un like se questi video relativi ad Amazon ti piacciono. Bene, di che cosa parliamo oggi? Di un aggiornamento molto importante che ha rilasciato Amazon proprio oggi, 19 gennaio, te probabilmente guarderai questo video in data successiva, comunque sia, hai rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda le commissioni, nuove commissioni che Amazon andrà a applicare dal 1 marzo 2023. Bene, questo, come ben sai, è il mio account di prova che utilizzo per fare video, ma comunque sia, voglio guidarti nel trovare intanto le giuste informazioni e quindi andarle poi analizzare insieme, step by step. Perché è giusto fare anche degli aggiornamenti, non solo video pratici, ma anche aggiornamenti di quelle che sono le policy di Amazon che poi ti permettono appunto di vendere con successo su Amazon. Attenzione, prima di andare nell'aspetto commissioni, voglio intanto farti luce su un aspetto molto importante, ovvero se Amazon sta continuando ad alzare le commissioni, perché di fatto le ha aggiornate alzandole, adesso andiamo a vedere insieme, però le sta alzando, ecco, ovviamente deve farti riflettere la cosa, ovvero che le barriere all'entrata su Amazon si stanno alzando sempre di più in quanto è più difficile andare a posizionarsi, in quanto le commissioni sono più alte, quindi i margini si abbassano e quindi è sempre più importante andare a vendere in modo differenziato e trasmettendo la tua unicità e te stesso nel mercato ancora di più. È una cosa molto importante questa e non basta più andare a vendere su Amazon un prodotto già venduto da altri, semplicemente di un colore diverso, di una dimensione diversa, bisogna andare a differenziarci e trasmettere ciò che siamo nel mercato. Questo è molto importante e soprattutto ricordati che stai avviando una vera e propria azienda nel caso tu ancora dovessi vendere o se stai vendendo, considerare queste commissioni ti permettono di migliorare il tuo prodotto, migliorare il tuo posizionamento per poter incrementare anche i margini e quindi fornire più valore ai clienti. Cosa molto molto importante. Ma andiamo a vedere appunto queste nuove commissioni, le trovi nella sezione notizie come avrai nel tuo seller central, cioè commissioni per segnalazione e tariffe di logistica di Amazon, se non sai, perché magari sono state aggiunte nuove notizie da parte di Amazon e non riesci a trovare questa sezione qua, ti basterà andare qua nel menu in scopri e poi in notizie e vedrai appunto tutte le notizie che vengono rilasciate da Amazon, anche quelle passate. Bene, da dentro la sezione notizie ovviamente andremo nella notizia appunto che ci interessa relativa alle modifiche delle commissioni, che è questa. Ecco, e poi da qua dentro andiamo a cliccare sul link del riepilogo delle modifiche alle commissioni per segnalazione, logistica e così via. Ecco, Amazon ha sottolineato che questo aumento, diciamo, è dato anche dal fattore inflazione, dall'incertezza di mercato, dal fatto che tanti mercati e paesi stanno andando anche in recessione e questo perché voglio farti luce che cosa succede sostanzialmente, cosa sta succedendo. Sta succedendo che sono aumentati i prezzi dell'energia a causa di una scarsità di domanda, quindi elettricità, gas, tutta questa roba qui, sono aumentati i prezzi non per un eccesso di domanda, ma perché c'è scarsità, e però quello che è successo è che le banche centrali, invece di andare ad abbassare i tassi per favorire la liquidità in circolazione, hanno applicato le normali prassi operative in caso di aumento dei prezzi e quindi cosa hanno fatto? Hanno innalzato i tassi di interesse, quindi in questo modo ci sono ancora meno soldi in circolazione, i costi e i prezzi dei prodotti sono più alti in quanto i costi sono appunto aumentati a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e quindi quello che succede è che stiamo andando completamente tutti in recessione. Quindi questo è un dato oggettivo, ovviamente chi mastica un po' d'economia avrà già capito l'impatto, non a caso diversi esperti si sono espressi in materia, ma ovviamente le banche centrali se hanno deciso così, ovviamente poi si andrà incontro a delle conseguenze come già stiamo vedendo, però comunque sia l'aumento dei prezzi vediamo in giro non è un aumento dei prezzi a causa della domanda, ovvero le persone possono spendere di più, ma semplicemente a causa appunto di una diminuzione dell'offerta dell'energia che appunto fa levitare i costi di produzione, i costi di vita, della vita e così via e così via. Quindi da una parte aumento dei prezzi, ripeto dall'altra diminuzione della liquidità in circolazione a causa dei tassi di interesse elevati, quello che succede è la recessione imminente. Bene, andiamo comunque a vedere questa cosa qui su Amazon, perché comunque questo era un discorso macroeconomico, ma andiamo a vedere nell'aspetto microeconomico di Amazon che cosa succede, e commissioni, nello specifico, quello che Amazon ci riporta sono dei link specifici agli aggiornamenti. Allora andiamo a vederli insieme uno per volta. Uno è le modifiche alle commissioni di segnalazione, che cosa è successo, in sostanza Amazon ci dice, e io cercherò di fartela breve, non starò a leggerti tutto il copione, ma l'ho già letta queste notizie, sono qui per cercare di semplificarti tutto il processo. Amazon ci dice che le commissioni di segnalazione, intanto come sempre per quanto riguarda la categoria abbigliamento, accessori, saranno diminuite, le commissioni di segnalazione saranno al 7,21% rispetto al 15,45%, quindi questa è una scontistica che lui va a offrire. Qui dice, il 31 marzo 2023 termineremo l'attuale promozione per scarpe e borse vendute tramite logistica di Amazon, la promozione ha ridotto la commissione per segnalazione dal 15,45% al 7,21%. Quindi questo qua per quanto riguarda le scarpe e borse terminerà questa promozione, quindi le commissioni di segnalazione, mentre per quanto riguarda l'abbigliamento andrà appunto a ridursi la commissione di segnalazione, come appunto leggi qua. Per quanto riguarda le commissioni di segnalazione, invece per tutte le altre categorie, quello che succede è che Amazon ci sta dicendo che verranno applicate per chi utilizza il servizio di calcolo dell'IVA di Amazon, quindi in genere non per chi è in regime forfettario, ma per il regime ordinario in genere, verranno applicate sul prezzo di listino inserito e non sul prezzo che viene applicato in un altro paese. Ad esempio, se un cliente business acquista in un altro paese o comunque nel paese avrà uno 0% magari di IVA che lui va a pagare, quindi quello che succede, Amazon ci fa degli esempi, è che le commissioni di segnalazione non vengono applicate sul prezzo al netto dell'IVA, ma sul prezzo che noi inseriamo, quindi con IVA inclusa. E quindi questo qua ovviamente ha una differenza, ovviamente un implemento delle commissioni di segnalazione. Inoltre, qui ovviamente poi io ti linkerò qua sotto in descrizione, il link a queste nuove policy in modo tale che te le potrai leggere. È una cosa che dico sempre, battele a vedere, guarda tutto questo, spulcia, legge, così ti fai una formazione, una cultura su tutto quello che è il mondo Amazon, però considera che da qualche anno fa sono salite tantissimo le commissioni di Amazon e ora che la marea si abbassa, come dice Warren Buffett, si vede chi sta nuotando senza mutande. quindi attenzione che adesso si vede chi si è veramente differenziato e chi può sostenere un aumento anche dei costi, quindi una riduzione eventuale dei margini oppure può incrementare i prezzi in quanto si è differenziato bene. Sul mercato ti lascio qua sopra il link ad una live di Leaf esclusiva in cui ho fatto vedere come diventare un seller unico, ma soprattutto come trasmettere te stesso là fuori. Altro aggiornamento, quello che ci dice modifiche alle categorie, in pratica ci sarà un cambio di commissioni per quanto riguarda anche la categoria auto e moto in cui verranno applicate le stesse commissioni di accessori per elettronica passando dal 12,36% al 15,45%. Quindi questo ovviamente per chi vende in auto e moto, mi raccomando, è importante. E qua ci dice il resto. Per quanto riguarda un'altra commissione che è stata aggiunta, per quanto riguarda prodotti che sono considerati non ordinabili e quali sarebbero i prodotti che hanno un peso superiore a 31,5 kg, lunghezza del lato più lungo superiore a 175 cm, circonferenza di questi è superiore a 360 cm, insomma per articoli molto grandi considerati non ordinabili e verrà modificata a 25 euro la commissione di segnalazione applicata. Ora ovviamente non consiglio di gestire tramite logistica di Amazon ovviamente prodotti grandi, di grandi dimensioni, ma comunque sia la commissione di segnalazione la andrai a pagare anche se gestisci in FBM, quindi gestirai te la spedizione. Quindi questa è una cosa molto importante, attenzione se vende articoli grandi avrà delle commissioni più alte. Altro aggiornamento, andiamo al secondo link, la cosa più importante, le tariffe di logistica di Amazon che sono state modificate e ora qua ci dice tutti i vari aggiornamenti, nello specifico la cosa che consiglio di fare io è andare subito in fondo, oltre tutte queste tabelle, a vedere nello specifico che cosa è successo. E qua vediamo con degli esempi pratici che cosa è successo. In base alle dimensioni dei prodotti, ad esempio le dimensioni di un libro di 400 grammi, quello che succede è che siamo passati da 4,02 a 4,06, insomma sono leggermente aumentate anche queste, come anche quelle di rete logistica europea che invece qua rimangano uguali anzi, quindi niente di particolare. Comunque sia consiglio di dare un'occhiata a queste tabelle, direttamente agli esempi in fondo per essere più chiari. E qua ci sono anche alcune domande e comunque sono leggermente aumentate, lo possiamo vedere anche negli altri tipi di prodotti, anche più piccoli, da 1,70 a 2,01. Ok? Quindi qua si vedono le varie dimensioni, ma consiglio sempre di utilizzare poi il calcolatore di Amazon che ti linko qua sopra sull'utilizzo, ma te lo metto anche qui in descrizione, per avere diciamo un calcolo più semplice di tutto questo. Poi inoltre un'altra cosa importante è che è stato modificato il prezzo per aderire al programma Small & Light che ti permette, ti lascio qua sopra il link al video, di avere una riduzione delle commissioni, il programma Small & Light passerà da 11 euro per aderire del prodotto a 12 euro per Italia, Spagna e Francia, mentre in Germania passerà da 10 a 11 euro, in Inghilterra insomma salirà da 9 sterline a 10 sterline e quindi e anche per gli altri paesi passerà a un prezzo leggermente più alto di un euro, questo perché appunto Amazon sta cercando di favorire anche i prodotti che costano meno ovviamente, perché altrimenti le commissioni sarebbero eccessive. Quindi questa cosa è importante, poi ripeto di guardare gli esempi in basso per vedere di quanto aumentano le categorie, ma farsi affiancare dal calcolatore di Amazon. Altro aggiornamento per quanto riguarda le promozioni, ci sono delle promozioni per quanto riguarda la spedizione della rete logistica europea, appunto che ci sono delle, diciamo, delle promozioni per quanto riguarda la spedizione trasfrontaliera che va dall'Unione Europea, scusami, all'Inghilterra e viceversa, e qui puoi trovare tutte le tariffe scontate, c'è uno sconto su queste tariffe appunto, che è uno sconto del 17,5% su queste tariffe trasfrontaliere tra Regno Unito e Unione Europea. Per quanto riguarda il resto, poi abbiamo modifiche alle tariffe anche queste di stoccaggio, aumentata anche la tariffa di stoccaggio per quanto riguarda appunto lo stoccaggio dei prodotti all'interno dei magazzini di Amazon, che anche questa va a cambiare. Quindi a partire dal primo maggio e poi dal primo ottobre 2023, insomma, ci fa vedere che vanno a cambiare. Quindi ci saranno dei supplementi in più anche per chi ha un inventario giacente per più tempo di quello normale, insomma, il consiglio in breve è quello di avere una rotazione dell'inventario abbastanza rapida, insomma, di andare a cercare di vendere o comunque di non stoccare troppe unità dentro i magazzini di Amazon e poi rischiare di non venderle, per non accumulare questi costi qua. E ovviamente ci sono dei costi in più, ok? Quindi una modifica che sicuramente, come qua ci dice, da gennaio a settembre, prima del primo marzo, per gli articoli standard, 16,69 per metro cubo, si passa a 18,36 dal primo marzo in poi. E per le altre categorie, qui ci dice, questa va per la categoria scarpe e borse e abbigliamento, poi passeranno, altrimenti sarebbe 27,82 e passa a 30,60 per tutti gli altri articoli. Questo è un altro aggiornamento, li sto vedendo abbastanza rapidamente insieme a te e anche per quanto riguarda le tariffe di rimozione sono state modificate anche queste. Anche queste passano, anche qui, come si vede, dimensione standard da 29 a 41, quindi attenzione anche alle rimozioni che ovviamente avranno un impatto, quindi tutte le commissioni, come vedi, sono aumentate, quindi mi raccomando, dai un'occhiata a queste tabelle e subito ti rendi conto che sono aumentate tutte le commissioni in relazione appunto al discorso che ti ho fatto all'inizio di questo video. Poi, ultima cosa, cosa abbiamo? Nuova selezione logistica di Amazon, ci saranno dei aggiornamenti, le vediamo velocemente, per quanto riguarda, ci saranno, diciamo, costi, diciamo, gratuiti per quanto riguarda le prime 100 unità invece delle prime 50 per quanto riguarda i prodotti appena iscritti e che varranno per almeno 120 giorni rispetto ai 90 giorni di prima. Quindi, diciamo, nessun costo per quanto riguarda quindi costi di stoccaggio gratuito, rimozioni gratuite e così via per i primi articoli.